Buona sera lo scorso di Italia Ma l'uffa Ma l'uffa E' troppo che ci si mette sempre davanti di lei Questo qui è la tratta Ma l'altro è anche il crimine Io ho entrato subito per aprirlo le tappe Io devo anche fare i cambiamenti con il mio stickler con il tuo Lo metto dentro l'astuccio No, io scrivo sul banco Io lo metto dentro l'astuccio No 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 Grazie a tutti.